Per caso vedete la nostra ultima porta? Come facciamo a raggiungere la nostra porta con questi giocattoli davanti? No, no, bambino grande! Dobbiamo passare! Perché il bambino grande non ci fa passare? Benvenuti nel castello di mattoncini del bambino grande! Castello? Beh, in realtà sembra un castello. Se sei un bambino piccolo però... Il bambino grande ostacolare le persone adora, visto che per costruire il suo castello lavora. Per oltrepassare i mattoncini alla nostra porta arrivare, dovete salire su ogni mattoncino e dal pavimento saltare. Bene, adesso non c'è. Perciò andiamo! Rimaniamo a guardarla per qualche minuto. Magari qualcosa succederà. Temevo che mi avresti dato questa risposta. Come faremo a raggiungere la nostra porta con questi pupazzi a molla che ci spuntano sotto i piedi? Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Si muove! Come arriviamo alla par... I nostri strumenti musicali sono scomparsi! E stavamo per metterci a suonare! No! Non preoccuparti, Daisy! Scopriremo chi ha preso i nostri strumenti! Soldi! Ehi! Quante scatole davanti a noi! Come possiamo arrivare alla porta se tutte quelle scatole da regalo non ci fanno passare? Le dispiace farci passare il popotama? Adesso ho capito dove è andata a finire il mio pranzo! Benvenuti nell'aranceto degli orangotangi! Dove crescono le arance più succose e grandi! Gli starnuti del signore Chu stanno scuotendo i loro alberi! Adesso gli orangotangi dovete aiutare! Le arance prima che si spiaccichino dovete acchiappare! Dovrete muovervi veloci per prenderle di qua e di là! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! Guardate! Il polpo piagnucolante! Ehi! Attenzione ai pupazzi di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Benvenuti sul lago dei pupazzi di neve! Fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante! È una festa invernale! I pupazzi di neve sui pattini vanno! Si stanno divertendo ma vi urteranno e ad aspettare vi costringeranno! Per oltrepassare i pupazzi di neve scontrosi e non scivolare! Piccoli passetti prudenti con i piedi allargati dovrete fare! Forza! Oltrepassiamo la porta dell'armadillo! Coraggio! Entriamo, amici! Purtroppo le costruzioni di carta non sono stabili! Ora voglio sapere! Siete abbastanza abili? Il castoro dispettoso! Trovate quelle tre porte e troverete il castoro dispettoso! Sono tanto felice che tu sia tornato! Sono tanto felice che tu sia tornato! Dite un po', ragazzi, ma voi come siete riusciti a trovarmi? Direi che le sue cesoie non sono molto affilate. Questi rametti non hanno un taglio perfetto. Perciò, se troviamo una persona che ha una bocca enorme, abbiamo trovato che ha morso la macchina a formaggio. Guarda, i bulldog! Ma che cosa stanno facendo con tutti quei bauli? Benvenuti nella cantina di costumi del castello! Questi cani da guardia sono nobili protettori, vedete? Vogliono tenere i bauli al sicuro dalla collezionista di costumi e aiutarli potete! Hanno molti bauli da spostare se vogliono il lavoro finire! Se volete superare questi bauli che sprecciano veloci, sopra ognuno di loro dovrete saltare! Incredibile! Hanno un ricorso ai puzzle! È un pollivo!